Buonasera, io considero questo forse il film più perfettamente politico che conosca, perché spiega molto bene non solo il funzionamento della democrazia americana, però lo spiega nei dettagli, si capisce benissimo da come si fanno le leggi, perché c'è proprio questa deuter agonista, notate molto il personaggio di Saunders, che è Jean Arthur, è la giovane donna che è l'assistente, credo del senatore, e che è completamente disillusa, cinica, addirittura mette la stampa contro questo innocente che arriva, questo zotico che arriva a Washington in mezzo a questi pescecani che lo vogliono usare e manipolare, e all'inizio lei questo cinismo glielo fa un po' odiare, non amare, insomma se ne vuole andare perché non vuole avere a che fare con lui, poi piano piano viene convertita dal suo credo, credere profondamente nella democrazia americana in questo modo che si dice spessissimo in Italia che gli americani sono naive, sono ingenui, l'ingenuità è la cosa più comune. Questo film fa capire profondamente perché io ora sono convinta che Trump non può vincere, perché per quanto esistono, anche se Trump avesse vinto comunque, dovesse vincere, sono convinta che la democrazia americana è così forte, credo che si vede in questo film esattamente perché, che resisterebbe anche a un Trump presidente, anche perché abbiamo resistito a diversi presidenti molto deboli, ma questo film è anche una sceneggiatura secondo me perfetta, è una delle sceneggiature più belle, scritte meglio, fu nominato per qualcosa come 11 Oscar nel 39 mi pare, vinse solo per storia originale perché era un anno campale per il cinema americano. Comunque penso che vi divertirete molto a vedere questo film, i dialoghi sono splendidi, sono meravigliosi. L'anno di Ombre Rosse, di Diago il Vento. Sì, sì, insomma era un anno un po' particolare, però lanciò Jimmy Stewart come la grande star che poi è rimasto fino alla morte praticamente, ma questi due, lui e lei, io trovo questo bellissimo questo duello tra lei cinica e lui ingenuo e a un certo punto lei dice a un suo collega cinico come lei, quando comincia a capire che questo forse non è così zotico come sembra, ma forse questo Don Quixote sta avanti a noi che siamo tanto scafati. Allora ringraziamo moltissimo Anselma, grazie a voi di essere qui e buona visione.